su Radio Punto Zero, Radio Weekend, Radio Weekend. Radio Weekend, Radio Punto Zero, appuntamento in questo momento con la Edit Music. E allora in questo sabato assolato, Caronte ancora, sosta su di noi, ci colleghiamo con un grandissimo disc jockey di quelli che ci fanno ballare e di quelli che fanno ascoltare grande musica. Stiamo in diretta con Emanuele Bruno, buon poveriggio. Ciao ragazzi, buon poveriggio a tutti. Emanuele Bruno al secolo Dottor Sound o il contrario? Dottor Sound all'epoca è Emanuele Bruno? Eh, dipende dai giorni. Allora, sei un bravo, un grande disc jockey, sei accorsatissimo, giri d'Italia, fai le tournée, fai ballare migliaia di persone con la tua musica, hai sfornato insolitamente. Esatto, c'è un disco, una collaborazione realizzata insieme al supporto del disco e vocaliz che lavora in una radio nazionale, non la diciamo per concorrenza. Questo insolitamente è un brano, è un... Sì, esatto, è un brano, un singolo che è stato realizzato in collaborazione con questo vocaliz, è Ripasso, insomma, una persona che è abbastanza famosa nel mondo della nightlife, notturna, gira parecchio, pure lui insomma in Italia, in Europa. E abbiamo realizzato questo singolo che è uscito appunto su The Swabit Music. Ricordiamolo tra l'altro che si può trovare su iTunes e su tutte chiaramente le... tutti i store digitali che sta per un prezzo anche sul grande Beatport finalmente. Finalmente. Diciamo la maggior parte del pubblico della notte, quali DJ e via dicendo, insomma, quello è il portale di riferimento per la musica per quanto riguarda il digitale, quindi diciamo quell'istico sicuramente ci sarà un riscontro. Ma hai detto che te ne vai in Spagna? Esattamente, già il secondo anno in cui ecco se si organizza questa diciamo tournée in Spagna che poi realmente viene fatta in una località in particolare Benzano che è una sorta di Ibiza spagnola. Ecco, e noi mi stavano adesso... Sì, è una torta di Ibiza. Il Prince. Prevalentemente, esatto. Vi facevano ridere di qua perché diche ma dove va a lavorare? C'è un locale a Ibiza che si si chiama il Troia. E' vera sta cosa. Sì, sì, è verissima sta cosa. Dove ci sono tutti truccati. E' una serata che fanno, esatto, il Martiziano, la Troia è fascista. Esatto, fantastico ragazzi. Esatto, è una serata gay. Esatto, è proprio così, è proprio così. Che cosa ti prefiggi? Che vuoi fare nella tua vita di questa musica? Dove vuoi arrivare? Dappertutto se ci vuoi. Il problema è che non è facile, è difficile però uno deve puntare in alto con le piedi per terra. Eh certo, parlavamo della storia di Faber Cucchetta, parlavamo di Agostino Presta, parlavamo di nomi storici della della dansetteria. Ancora comunque qualcuno ha ancora la registra, riesce a farsi ancora. Si fa sentire, certo, certo. E tu sicuramente sei tra quelli più bravi che abbiamo, accorsatissimo, siamo stati felici di avervi oggi. Però invecchiare con la musica, sì, fino a che ci riesce. Assolutamente, sì. Dottor Sound, al secolo Emanuele Bruno, grazie di essere stato nel pomeriggio. In Radio Weekend. Ciao, grazie. Su Radio Punto Zero, Radio Weekend. Radio Weekend. Insolica mente. Insolica mente. Insolica mente. 입니다. Insolica mente. Insolica tense. Imanuele popolo segra le tasca.INE after però es,'oc. Insolica mente. Insolica mente. Insolica колenziato offererti a santé in Grazie a tutti